In questo 2017 sono successe tante cose, una salvezza strameritata e entusiasmante, una partenza altrettanto scopiettante e poi qualche sconfitta. Lo sport è così? Sì, lo sport è così anche se non ci si riesce ad abituare alla sconfitta, soprattutto quando va pure per pochissimi punti e anche perché stiamo attraversando un periodo di poca salute all'interno della squadra. Speriamo che inizio dell'anno un nuovo sprucci forti salute, non dico fortuna perché questa la vogliono tutti, però la salute non è retorica, per una squadra di pallacanestro è essenziale. Siamo in un campionato molto equilibrato. Equilibrato verso l'alto, dico io perché anche rispetto all'altro girone vedo giocatori di altissimo livello, squadre preparate, partiti che si decidono per episodi e quindi bisogna sempre stare un po' così col colpo in canna e gli occhi ben aperti. Il pubblico, quando si perde faccele criticare ma è il momento di stare vicino alla società, alla squadra. Ma io credo di sì perché è vero che voi si vedono proprio nel momento del bisogno come gli amici. Credo che in questo momento Forlì, questa giovane società, abbia bisogno di tanti amici. Devo dire che molti l'hanno capito, ci stanno seguendo comunque anche perché vedono lo sport delle ragazze. Forlì, questa giovane società, abbia bisogno di tanti amici.